Il cantante oggi festeggia i 30, e il disco di Platino.Marco Mengoni nella giornata odierna, 25 dicembre, festeggia 30 anni e per lui è giunto un regalo molto speciale Il suo ultimo CD, Atlantico è già disco di Platino. Nello specifico ha superato le 50.000 copie vendute in poco meno di 30 giorni dalla sua uscita Ma il ragazzo di Ron Ciglione negli ultimi tempi è al centro della tensione per qualcos'altro Il cantante è stato paparazzato in coppia con un ragazzo misterioso. Secondo quanto dichiarato da persone vicine a Mengoni, sembra che si tratti del suo nuovo fidanzato Marco Mengoni fotografato insieme ad un ragazzo.Marco Mengoni, che sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista artistico, è stato paparazzato all'interno di un bar Ovviamente lo scatto in questione che mostra il cantante in coppia con un ragazzo, in pochissimo tempo è diventata virale, facendo il giro di tutti i special network Chi conosce Mengoni, sa perfettamente che è un ragazzo molto riservato. Infatti da quando è diventato popolare è rimasto sempre molto discreto sulla sua vita personale A lanciare lo scoop e mostrare le foto è stato il portale tabloid.Quest'ultimo, infatti, ha beccato il 30enne e l'altro ragazzo mentre facevano compere, ovvero la spesa in un supermercato e successivamente all'interno di un bar mentre facevano un aperitivo In tanti si domandano, se il giovane in foto al fianco di Marco possa essere il suo nuovo compagno A differenza di altre star di casa nostra e non, tipo Tiziano Perro, Ricky Martino Marco Carta, Mengoni per il momento non ha ancora fatto caminotto fatto delle dichiarazioni in merito al suo orientamento sessuale . Marco Mengoni, e il nuovo disco Atlantico.L.O. scorso 30 novembre è uscito Atlantico, l'ultima fatica di Marco Mengoni Un CD che in pochissimo tempo ha ottenuto un grandissimo successo superando anche Laura Pausini in classifica, già una settimana dopo la pubblicazione . All'interno del disco ci sono dei brani inediti, tra i quali Ola, Voglio e Buono . Un lavoro durato ben due anni e ha visto la collaborazione anche con il molleggiato Adriano Celentano .